Martedì 30 giugno, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani, l'ultimo aggiornamento che giunge dall'ASREM con il bollettino, ancora buone notizie sull'emergenza sanitaria legata al coronavirus, nessun positivo sui 125 tamponi processati nelle ultime ore e c'è un guarito in più, si tratta di una persona di Termoli, ci riferisce tutto Valentina Ciarlante. Zero contagi da coronavirus in Molise ed è il quarto giorno consecutivo, tutti negativi infatti 125 tamponi processati dall'ASREM nelle ultime ore. L'altra buona notizia è relativa all'aumento dei guariti che complessivamente sono 396, ha sconfitto il Covid un cittadino di Termoli. Attualmente in regione le persone che risultano positive sono 25, i casi totali registrati cioè dall'inizio della pandemia 445. I soggetti in quarantena sono 32 e l'ospedale Cardarelli risulta Covid free. Il coronavirus è in nove comuni del Molise adesso, il numero più alto nel capoluogo 15, segue Isernia con tre in provincia di Campobasso, un caso a Monacilioni, Oratino, Vinchiaturo, San Giuliano del Sannio, Termoli e Portocannone. In provincia di Isernia oltre ai tre della città a Pentra si registra un caso a Macchiagodena. Ed ora i quotidiani, primo piano Molise, vediamo l'apertura, l'apertura dedicata alla politica, concluso il conclave di maggioranza, Toma avvia le consultazioni, consegnato al governatore lo schema di riassetto, via l'assessore esterno, a Forza Italia un solo posto in giunta e staffetta per il sottosegretario. In calcio al documento mancano le firme di Cavaliere di Baggio e Calenda. Dalla palla passa al Presidente, clima costruttivo, entro la settimana incontrerò i consiglieri, lunedì prossimo nuovo vertice, martedì 7 luglio approda in aula la mozione di sfiducia. Il bollettino, l'avete sentito, un guarito e nessun caso, a piccoli passi verso quota zero malati. Di spalla c'è anche il punto di Vincenzo Musacchio, le istanze del popolo non si ignorano. E poi sotto la testata, in taglio alto, cataclisma a Molise dati, il CDA licenzia Giovanni Duva per giusta causa, il figlio di Giustino era dirigente della S.P.A. Monte Cilfone torna all'incubo terremoto, ieri alle 18.21, scossa di magnitudo 3.5, il sisma avvertito in tutto il basso Molisea. Pietra Catella, parroco trasferito, 600 fedeli scrivono a padre Giancarlo, ci spieghi le ragioni. Pestato dal branco perché omosessuale, l'Arciiei invoca Regione e Parlamento. La vittima racconta l'aggressione al Corriere. Provo pena, sono ragazzi sfortunati e disagiati. Luce Visco chiede una legge seria ed efficace. Infine, dentro la notizia, senza tetto malato rischia lo sfratto dalla S.R.A. per un disguido con l'Inps, caso risolto dalla Casa dei Diritti. A Isernia, Movida sicura, la polizia intensifica, i controlli utenti e gestori mostrano senso di responsabilità. E poi lo sport clamoroso. Farina lascia il vasto Girardi, il tecnico è pronto ad accasarsi in Puglia. Poi c'è l'intervista. Tondi racconta la sua esperienza a rieti nella massima serie di futsal per il basket femminile Magnolia. Marangoni, pronta all'esame serie A1. I quotidiani nazionali, il messaggero di Roma. MES e appalti, governo diviso. Il MES lo troveremo un po' ovunque. Alta tensione tra Movimento 5 Stelle e PD sul Fondo Europeo. E Conte prova ad accelerare i decreti. Nel DL semplificazioni, previsti lavori senza gara e una norma tagliacosti per le imprese. Si parla anche di Alitalia, riparte con i nuovi vertici. Caio, presidente e Lazerini, amministratore delegato. Il ritorno dell'auto blu più di 30%, più 30% negli ultimi due anni. E poi questa bella notizia con Cremona che ha il sorriso di 15 bimbi. Record in 24 ore. La città risorge dopo i giorni bui del Covid. Il Corriere della Sera, prova di forza sul MES. L'apertura, il Movimento 5 Stelle no al prestito. Il PD siete miopi e Conte prende tempo. C'è la vignetta di Giannelli, come sempre Silarante. Messia con Conte che osserva. E poi sfida dell'Iran, un mandato d'arresto per Trump per il caso Soleimani. E poi in taglio centrale, Cremona in 24 ore, 15 bimbi, medici, il nostro giorno di speranza. Ci sono anche i dati del virus da febbraio mai così bassi. L'epidemia, sei vittime, 126 contagi. La Repubblica, MES, no di Conte al Partito Democratico. Questo è il titolo principale. Il Premier si arrende ai 5 Stelle e rinvia a settembre la discussione sui 36 miliardi di fondi europei per la sanità. Non posso far cadere il governo. I falchi dell'Unione Europea però attaccano e dicono forse a Roma. I soldi non servono, ma dal Movimento via Libera a riscrivere i decreti sicurezza di Salvini. La Lega e il Sud, a proposito di Salvini, non è benvenuto. Tensione a Mondragone, vattene via sciacallo. Poi, in taglio centrale, in un giorno 15 bambini, il segno del coraggio. Virus record di parti a Cremona. Pechino distribuisce il primo vaccino, ma è per i militari. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Appalti pubblici, un anno senza gare. DL semplificazioni, procedure più leggere per le opere piccole e medie e per le grandi scelte con DPCM. I ricorsi non bloccano i cantieri, stazioni appaltanti con poteri eccezionali. E poi ci sono gli incentivi alle piccole e medie imprese, 620 milioni in arrivo per l'innovazione. Andiamo sulla gazzetta dello Sport. Gigi e Gigio, ci sono i due portieri sotto i riflettori. Buffon rinnova fino al 2021, con lui anche Chiellini. Juve ha 43 anni e sabato il record di presenze in Serie A. Donnarumma, Milan, il piano fino al 2023 si tratta sui bonus. C'è anche la notizia in taglio alto della battaglia di Alex Zanardi. Altra operazione al cervello. Le sue condizioni restano gravi. E poi sbarca a Chimi, oggi la firma con l'Inter ma senza festa. Il turbo terzino a Milano. E poi la nuova magia di Super Pippo ritorna in Serie A con il Benevento. Grande festa ieri per Pippo Enzaghi, per la squadra e per i tifosi. Bene, prima del palinzesto restiamo sullo sport. Abbiamo visto la notizia di Farina che lascia il Vasto Girardi allenerà in Puglia. Allora entriamo un po' nei dettagli, sentiamo il servizio. Clamoroso Vasto Girardi, Francesco Farina potrebbe lasciare la panchina giallo-blu. Nulla di ufficiale per ora, solo la sensazione che l'allenatore campano di nascita. Ma molisano d'adozione non guiderà gli altomolisani per la terza stagione consecutiva. La società e allenatore glissano, sullo sfondo un divorzio che prende forma e che pare sia sempre più inevitabile. Dopo due anni di grandi successi, vittoria del campionato di eccellenza, lasciando le briciole agli avversari. E una salvezza ricca di significati nel primo campionato di D con gli altomolisani che a tratti hanno giocato il miglior calcio del girone, ritagliandosi il ruolo di squadra, rivelazione, la separazione consensuale. Il connubio messo in discussione dalle scelte della società, il presidente dilucente a più riprese ha parlato di un ridimensionamento economico del 50% rispetto all'ultimo budget, ma soprattutto dalle telefonate giunte al tecnico. L'ottimo campionato del Vasto Girardi non è passato in osservato. Tante società si sono interessate a Farina che con molta probabilità allenerà una big pugliese. Nessun sgarbo adilucente, ma una scelta, quella di Farina dettata dalla necessità di non poter dire di no a proposte importanti per blasone e compenso economico. Bene, ora il palinzesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete, poi i saluti. Prima dicevo il palinzesto, eccolo qui, alle 11 c'è fuoco incrociato, alle 14 l'informazione con la collega Cristina Niro, alle 14.30 Salus TV, la trasmissione che Teleregione realizza in collaborazione con il Gemelli Molisi, alle 16 ancora fuoco incrociato, 18.30 Musa TV, 19.30 l'informazione questa volta con Valentina Ciarlanti, alle 20 salute 4.0, alle 21 Amarcord Bolle, non perdete queste trasmissioni davvero molto interessanti, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. Bene, è tutto, grazie per averci scelto, buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.